Grazie per la visione! Ho deciso di cominciare a lavorare e dopo un bel po' ho cominciato a capire cosa mi appassionava di questa materia. Sentiva che mi mancava una cosa da riempire, quel spazio vuoto si doveva riempire con un'esperienza fuori e questa esperienza è stata fare questo master in un'altra città. Ho conosciuto tante cose che noi come architetti non riusciamo a conoscere solo con questa carriera, ho approfondito tanto nel dettaglio, nella storia del prodotto, nella storia dell'interior design. In termini umani il master mi ha dato delle amicizie e collegamenti che ricorderò per tutta la vita. In termini professionali ho imparato tante cose che so che mi porteranno a lavorare in un ambito quasi a livello mondiale. Finitiva consiglierei questo master perché è un'opzione che ti apre proprio il mondo, ti apre gli occhi per conoscere tanti professionisti allo stesso livello tuo ma anche per andare avanti e crescere a un livello internazionale. finitivo